Tre serate all'auditorium Cerulli di Pescara tra musical e prosa, che cosa vedremo in queste tre serate? Allora, questa serata sarà una serata dedicata a uno spettacolo di prosa dal titolo sulle spine, fatta da un attore, Davide Pinto, la regia è curata da me. Nella successiva serata, quindi venerdì, questo venerdì ci sarà invece uno spettacolo dedicato più al tema musical, infatti il titolo è Broadway on the road e il terzo spettacolo è uno spettacolo con un tema più, diciamo, di una certa importanza dal titolo La Confessione. Protagonisti saranno i ragazzi che si sono diplomati nella tua accademia? Sì, è quello che facciamo dei soliti, nel senso che i ragazzi con noi studiano, fanno questo percorso professionale, fanno sette ore al giorno da lunedì al venerdì, studiando canto, danza, recitazione, quando finiscono il percorso è evidente che bisogna un pochettino, come dire, accompagnarli, introdurli nel mondo dello spettacolo, quindi non facciamo altro che curare, proprio allestire degli spettacoli e come succederà appunto in queste tre serate. L'Accademia di Silvano Torrieri, cosa fa? Vogliamo anche parlare di questa tua creatura nata ormai da diversi anni. Sì, noi siamo partiti qualche anno fa, l'intenzione era quella fortemente, da me voluta evidentemente, di portare non solo il musical come formazione, quindi come approccio formativo, ma il poter avere una struttura importante che potesse curare la formazione dei ragazzi facendo fare canto, danza, recitazione e cercando di far sì che queste tre discipline, come succede in America o come succede anche in Inghilterra, nel West End, si possano ben coniugare tra loro. Grazie. Grazie. Grazie.